Pronti per vedere questa splendida battaglia? Superman deve sconfiggere il falso Doomsday che è della dittatura, ma quest'altro è quello vero che fa da cameo. Ma fate molta attenzione perché Doomsday non è facile da eliminare, me l'avevo già detto. La sua pelle la può fare dura come una roccia. Poi non ci farà vincere. Doomsday non l'avevamo mai affrontato nella modalità storia, dopo tutti questi capitoli mai. Era l'ultimo e mancava, tutti gli altri sono stati sconfitti. E poi voglio vedere chi affronteremo dopo Doomsday. Dopo questo giorno del destino. Oh no, questa non ci voleva, io non la capisco questa cosa. Rigenerazione salute. Ecco, scontro pareggiato, non è successo nulla. Oh, Superman ha vinto ancora. Io vi saluto ragazzi, vi aspetto nello scontro finale di questo dodicesimo capitolo della modalità storia. Allora. Grazie a tutti.